Ci troviamo al seminario Arcivescovile Pio X di Messina in compagnia della dottoressa Milina Prestipino in una qualità di direttrice della sovrintendenza di Messina nella sezione Bibliografia e la quale ha oggi una grande soddisfazione quella di inaugurare una donazione di Monsignor Paino e lei stessa ce ne parlerà. Oggi si inaugura il Salone delle Cinquecentine della Biblioteca Painiana. Perché Biblioteca Painiana? Perché il materiale che è custodito in quest'ambiente come anche nella sede storica della Biblioteca fu inizialmente in gran parte acquistato da Monsignor Paino, l'Arcivescovo di Messina. Per cui l'intervento che ha visto una progettazione ampia, piuttosto articolata, che si è svolto praticamente dal 2010 ad oggi. È stata un'operazione piuttosto impegnativa, quindi oggi è semplice parlarne, però è stata sempre sotto il controllo e la costante vigilanza della sovrintendenza che si avvalza sempre del personale catalogatore che ha seguito un po' le varie fasi della sovrintendenza nella sezione stessa. Questa sala è appunto allestita, realizzata con la disponibilità di Monsignor Di Pietro con l'adeguamento sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista della sicurezza. Sebbene sia un seminario non abbiamo soltanto Bibbie, non abbiamo soltanto vite di Santi e geografie ma abbiamo anche testi di medicina, testi di botanica, testi anche dell'arte della guerra e anche un po' dell'arte dello scrivere. Ci troviamo di fronte a tutto lo scibile del Cinquecento, questa è la cosa importante, dal punto di vista contenutistico. Il lavoro è stato finalizzato alla fruizione, cioè da questo momento, come avevo detto poco fa, si può procedere alla consultazione del catalogo, quindi a rinvenire le opere in catalogo e a poterlo consultare in sede. Sono dei giorni particolari, degli orari? Monsignor Di Pietro ha predisposto, sono due giorni alla settimana, con un assistente di sala incaricato a tal fine, può anche essere suscettibile di modificazioni e sempre per appuntamento. Sono due linee distinte, lo studio è la ricerca isolata del singolo studioso che viene e cerca, generalmente sa cosa cerca. La mostra apre a un pubblico vario, dagli studenti delle scuole alla collettività tutta la cittadina e è uno spunto, un'occasione per fare conoscere il patrimonio posseduto.